così come vedo che vivono il mercato moltissimi influencer e moltissime persone poi per carità molti influencer devono farlo perché il loro ruolo voi sapete che più puntate fate più continuate ad aggiornare più l'algoritmo lavora più avete iscritti più crescete come canale oppure come influencer su altre piattaforme a volte alcuni mi chiedono non fai la puntata non fai la puntata sinceramente sapete un po' come lavoro io no? mi interessano movimenti di medio periodo lungo sì li ho in testa e io programmo per quanto riguarda il mondo delle criptovalute l'investimento in base ai cicli dei bitcoin e poi mi adeguo ai cicli di medio periodo che sono quelli che mi interessano quindi sostanzialmente per quanto mi riguarda ad esempio negli ultimi giorni da quando ci siamo visti a oggi non è successo assolutamente nulla abbiamo avuto questo lungo weekend con Wall Street chiusa che il prezzo è rimasto più o meno piatto siamo andati a toccare l'area dove abbiamo le resistenze sul settimanale e adesso stiamo scaricando un pochino vediamo anche il perché ma sostanzialmente siamo sempre lì quello che io vi invito a meno che non siete dei trader giornalieri quindi che tutto il giorno operate fondamentalmente se siete dei giornalieri siete praticamente degli scalper o no che andate a cercare più opportunità all'interno della giornata vivete sui grafici eccetera quello che io vi invito è crearvi una strategia una strategia che vi permette anche di essere rilassati e tranquilli se volete approfondire il come perché non sapete come fare vi invito a visionare il link in descrizione e lo trovate anche il mio video corso dove spiego proprio il mio modo di ragionare e operare in quanto io anche caratterialmente e del modo che ho avuto più successo negli investimenti in più di 20 anni che investo nei mercati preferisco un approccio molto più rilassato un approccio più tra virgolette passatemi questo termine schematico che va a dividere in blocchi l'arco temporale e seguo un po il macro movimento come siamo messi al momento non siamo messi per niente male abbiamo bitcoin sui 23.700 nonostante abbiamo avuto un discreto scarico sullo standard impulse che se vi ricordate iniziavo a parlarvene l'ultima volta perché con la fed la fine della scorsa settimana che aveva iniziato a parlare di possibile aumento di tassi a più 0,5 il mercato invece di più 0,25 il mercato non l'ha presa proprio bene però guardate dove siamo arrivati abbiamo bucato la media 20 abbiamo bucato la media 50 la media 200 questo non è proprio bellissimo però dove siamo siamo vedete a un incrocio dove abbiamo la media a 100 l'esponenziale a 100 abbiamo questa trend line che sale ormai da parecchio tempo anzi scusa dal minimo dal minimo che sale quindi molto importante tenerla e ora abbiamo anche la trend line del bear market il movimento perfetto la perfezione sarebbe rimbalzare da questo livello salire e andare poi a bucare i 4.200 un movimento del genere credo che ci porterebbe senza grossi problemi sui 4.300 ma credo addirittura sui 4.400 indicativamente più o meno dove abbiamo questa trend line rossa questo sarebbe il movimento perfetto molto importante sarà cosa succede oggi e domani perché perché oggi abbiamo sostanzialmente i verbali della fed vedremo che tono useranno per capire se il mercato reagirà ulteriormente male oppure ha già scontato questo possibile più 0,5 che al momento il mercato più che possibile inizia a darlo quasi per scontato col prossimo momento di marzo in quanto quello che non si vorrebbe vedere è andare qua sotto tornare su e che o la trend line rossa o questa trend line verde vada a fare da resistenza se succede un movimento del genere allora potrebbe esserci un dampone successivo al momento non sembra una cosa così probabile anche perché tenete a mente una cosa stiamo tutti già parlando di un possibile più 0,5 va bene viene confermato magari da uno strappone verso il basso ma se a marzo alzano di più 0,5 è altamente probabile che poi per tutto il resto del mese di marzo si inizia a parlare che beh il mese dopo allora alzeranno di più 0,25 ed è stato tra virgolette un incidente di percorso quindi capite bene anche voi che la possibilità che qualsiasi scarico aggiuntivo da dove siamo adesso venga poi ricomprato successivamente c'è magari un periodo di turbolenza da qua a in circa il 15 marzo quindi sostanzialmente questo periodo qua un po' più di turbolenza bear magari scendere un po' dare un po' di paura al mercato eccetera ma ci buone possibilità che passato l'aumento del 15 marzo rinizi più a tornare una fiducia che l'aumento del tasso dei tassi di interesse sarà minori tranne sorprese sulla lettura dell'inflazione che avremmo inizio marzo in caso l'inflazione sia esplosa verso l'alto allora sarà un altro discorso però tutto questo spiegone per farvi un po' capire in quali livelli ballarlo e qua capite un po' già la mia tranquillità anche quando osservo i mercati ho più o meno questa idea in testa ma sto già parlando di idee che coprono quasi un periodo di una ventina di giorni da lì quindi cosa mi aspetto? mi aspetto che il bitcoin in quest'arco di tempo possa fare due cose sostanzialmente o in caso di scarico del mercato ulteriore Wall Street andare anche lui a ritestare vari livelli di supporto quindi il famosa area del gap del CMI non ve lo dico perché adoro il gap del CMI ma semplicemente perché fa la calamita quindi magari scivolare il bitcoin di nuovo sul livello del 21 21,5 che è un buon livello di supporto come candela e avere uno shadow quindi un'ombra di qualche ora che possa andare a toccare la media 200 non l'esponenziale ma la media semplice sul giornaliero più chiudere il gap di CMI e ritornare in chiusura intorno ai 21, 21,3, 21,4 quello che sia quindi complessivamente un movimento del genere e poi un rivalso verso l'alto se le parole di questa sera saranno delle parole più lasciatemi il termine, conciliative quindi potremmo uno 0,5 ma non è detto oppure sì lo facciamo ma è solo per un mese eccetera potrebbe aver già terminato lo Standard & Poor's Wall Street in generale il suo scarico quindi rimbalzare verso l'alto allora il bitcoin continuare vedete un po' con questa sua scaletta sali, scendi, sali, scendi, sali magari scendi e di nuovo salire e a continuare la sua strada verso il 27,5 di Fibonacci o l'area dei 28.000 dollari per quello vi ho fatto quel lungo spiegone prima sullo Standard & Poor's in modo che potete collegare il tutto tanto credo che ormai comunque tra di noi sono contento che finalmente dopo anni vedo anche dal Moonboy al Permabear che ha capito l'influenza del mercato azionario americano verso il bitcoin che poi non è una bestemmia voglio chiarire una cosa la finanza gira attorno all'America perché dove al momento e dove fino ad oggi la finanza è più forte e credo che continuerà ancora così per parecchio tempo il bitcoin non è stato creato per essere decorrelato da Wall Street assolutamente no quindi è normale che segua sostanzialmente i movimenti del fratellone di colui che guida poi avendo una variazione up e down più importante il bitcoin se noi andiamo a vederlo su un ampio respiro ovviamente vediamo dei movimenti verso l'alto e verso basso più ampi ma siccome abbiamo il ciclo dell'albin che fino ad oggi ha dato dei risultati eccezionali su un ampissimo periodo è normale che il bitcoin performi meglio dello Standard & Poor's del Nasdaq o quello che sia e ci mancherebbe che non fosse così visto che comunque anche il livello di rischio è maggiore in quanto l'asset è più piccolo è ancora meno regolamentato con meno istituzioni eccetera rispetto al resto questo direi ho poco da aggiungere abbiamo un RSI che non in fase fondamentalmente neutra i volumi che rimangono buoni la Dominance che rimane buono le Alcoin non ve l'ho più parlato ma sostanzialmente le Alcoin non sta succedendo niente sappiamo già che è stato qualche movimento sulle AI il gaming metraverso che è andato bene vi farò poi una puntata la prossima settimana magari quando torno a casa adesso sono qua brutto nell'angolino così che parliamo delle Alcoin ma sostanzialmente vediamo un po' i trend che hanno lavorato meglio in modo che anche voi possiate poi segnarveli tenerveli d'occhio perché in caso di forte storno o semplicemente quando il mercato avrà finito il suo momento bull ricordate che per me quest'anno è tipo il 19 qualcosa di simile e poi tornerà a fare uno storno complessivo maggiore per confermare che sia stato raggiunto il minimo o stampare un nuovo minimo eccetera conoscere i trend che recentemente quindi quest'anno hanno performato bene sarà molto importante perché è probabile che siano gli stessi trend che poi performeranno molto bene inizio del bull market cioè nel 2024 ma su questo poi ne parliamo con una puntata approfondita nel dettaglio se poi volete approfondire tutto un po' come il Cisco Portafoglio e le varie altre di cui parlo sentire più volte la mia voce o la mia presenza vi invito a visitare questo sito trovate anche il link in descrizione e vedere i servizi che offro io o più altri esperti all'interno dello Strategic Club per il resto direi che ho concluso qua ci sentiamo domenica domenica a bocce ferme ci sentiamo facciamo un po' il punto della situazione e vediamo un po' come è andato il tutto un saluto e una buona serata da Alberto e vediamo un po'